Matteo Principi, Full Series 2017, World numero 2, CrossFit Agora, categoria Team, scalato, stando. Bilanciere, 20 kg, disco da 10, disco da 21, disco da 22, altro lato, disco da 21, disco da 22, 10 kg, 100, Barber 20 kg, totale peso 120, posto, timer, corda, ok, perfetto, grazie. Stop, no no no, no no, sei matto, a dove va? Stop, no no no, sei me, sorti. Stop, no no, sei... Stop, no no, sei... Stop, no no, sei... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti